...verdi, 13 settembre a Pietralingue, una grande partita. Sindaco, lanciamo la palla. Tutti presenti. Grande occasione, a Pietra bisogna esserci, bisogna esserci per dare una mano a Marco e Pietra dimostrerà che quando c'è bisogno c'è sempre. Nazionale Calcio TV contro una squadra... Stone. Stone. E lì ci fermiamo. E lì ci fermiamo. A che ora si gioca? Alle 20.30, stadio di Pietralingue. È stato molto importante, glorioso e i prezzi sono contenuti per le ragazze, per gli adulti. Dunque, mi raccomando, più saremo e più doneremo. Venerdì, 13 settembre, Pietralingue. Giochiamo per lui. Grande. Grazie. Nonostante quello che è successo non mi sono mai sentito solo e continuo a sentire l'affetto di tutti e di questo ne sono veramente grato.